Ragazzi è appena arrivato un pacco dal corriere, andiamo a fare l'unboxing So come minchia aprirlo Tanto questi qua, di dei spazi Ah, qua adesso ti è che sta pure in uno scontrino Perfetto Tiriamo fuori Ovviamente io lo so cos'è Un simpatico treppiedi E dai, finalmente era ora che c'è questi treppiedi È arrivato con solamente due giorni Perché l'ho pagato il 12 sera La spedita il 13 mattina è arrivata oggi che è 14 Quindi insomma, molto veloce come spedizione E vabbè, speriamo di fare altri video con sto treppiedi Grazie a tutti